Musica Hey guys, eccoci qui in questo nuovo video Come potete vedere dallo sfondo siamo di nuovo su NBA 2K14 Qui per le magnifiche sfide fra i più grandi giocatori dell'NBA del passato, del presente No, del futuro, perché non sappiamo ancora chi saranno i giocatori Va bene, è stata richiestissima questa sfida Mi è stata richiesta da un sacco di persone, quindi sono felice di poterla fare Ci saranno altre sfide, continuate a commentarmi sotto i video qual è la sfida che volete Questa volta non ve lo annuncio, vediamo un po' chi sarà la sfida Eh sì, eccoli lì, li vedete dallo sfondo Due giocatori di adesso Due grandi giocatori E sono Derrick Rose dei Chicago Bulls e Lebron James dei Miami Heat Eccoli qui, io da grande fan dei Bulls ho scelto Derrick Rose Quindi, ma eccolo qua, subito ho fatto la stupidaggine Quindi ho scelto Derrick Rose contro Lebron James Vediamo un po' chi la scampa Secondo voi chi è più forte? Me lo potete scrivere nei commenti Ecco qua, grande schiacciatona subito di Derrick Rose Il numero uno Ce l'ha pure scritto sulla maglietta Eh Lebron, Lebron dove vai, dove vai? Mi dispiace No, ce l'ha fatta Lebron James è fortissimo però, mamma mia Sono tutte e due, due grandi stelle dell'NBA Vediamo un po' se ci riesco con Derrick Rose La prima volta che capita È fallo, è fallo, quindi è fallo di nuovo a me Ehm La prima volta che capita una sfida fra due giocatori di adesso Quindi Vediamo un po' se Il grande Rose riesce A farsi spazio Contro Lebron James Mannaggia, guardala che difesa È proprio forte Quella è, secondo me Nel fare punti, mannaggia È più forte Derrick Rose Ma nel difendere Mamma mia, Lebron James Perché è anche Molto robusto Molto forte in difesa Perciò Ma Derrick Rose Ce la può fare Mannaggia, è il secondo Che sbaglio Porca miseria Mi sta Stravincendo Siamo 4-1 per lui Vi ricordo ragazzi Si arriva a 21 Da come potete vedere Da come avete potuto vedere Dagli altri Dalle altre sfide Se non ve le siete viste Potete andare a vederle Vai E vai Questa ci è andata 4-2 Devo recuperare Non devo Eh, buonanotte Devo recuperare Mannaggia Rose Non mi deludere Tu sei un grande Eh, mamma mia Sei un grande Si è emozionato troppo Rose Dai, abbiamo capito E vai Gliel'ho stoppata No Che è successo? Si, fuori Ma è mia È sua di nuovo Gliel'avevo stoppata E vai di nuovo Grande Derrick Rose Vai Prendila Prendila Recuperala Scartalo E schiaccia Mamma mia Questa è stata grande Questa mi è piaciuta Ragazzi Mi è piaciuta parecchio Vediamo Di nuovo Quindi 5-3 Che piano piano Recupero Dai Sto giocando un po' meglio In difesa Come questa Stoppata Che blocco Mamma mia Che blocco Da parte di Derrick Rose È stato proprio Bellissimo Grande Rose Vai, vai Che te lo scarti Lebron James Grande Grandissimo Questa pure Mi è piaciuta Vediamo un po' No, no Mannaggia C'è entrata E vabbè È mia Siamo 6-4 Ce lo posso fare Recuperare Non capisco perché Nel punteggio Lì Non escono Non escono mai I nomi Dei giocatori Che ti scegli Ma sempre R, G, R E B, L, R Non so perché Vabbè Vai Derrick Rose Un paio di finte Mi fai passare? No Non mi fai passare Ti spiazzo subito Adesso partiamo da dietro E poi andiamo in avanti Così Un paio di Starzate No No Niente Non mi fa passare Niente Ci provo da più lontano Così E nemmeno ci va Mannaggia Non mi faceva passare In nessun modo E dove vai? No Mi ha fregato Pensavo che venisse Incontro al canestro Invece Invece Ha tirato Dalla media distanza Mamma mia Sto andando proprio Una schifezza No Scusate ragazzi Oggi non sono in forma Mannaggia Derrick Rose Non è tanto in forma Oggi Quindi Non fa niente Però Ce la posso fare ancora A recuperare Si arriva a 21 Dopotutto Quindi si può fare Credici Derrick Rose Credici E questa ci va Ci va Lebron James Non può niente E non passimo Ma non passimo No Che finta Che mi ha fatto Mannaggia Certo però ragazzi La grafica Ogni volta che ci gioco Di questo gioco È strabiliante Il gameplay La stessa cosa Però la grafica È qualcosa di spaventoso Cioè I giocatori Sembrano proprio loro Vai Grande Rose Ma perché Non ci va Perché Sono uno stupido E no No Stavolta Ti blocco Mi dispiace L'hai ripresa E ti riblocco Di nuovo Eh però La terza volta No Mannaggia Sto migliorando Un po' In difesa Dai però Potrei fare di meglio Non riesco a fare Una schiacciata Ma che difficoltà Ho messo Che sta messo Leggenda All star 11 a 5 Mannaggia Non è nemmeno Equilibrata Se continua così Vai Rose Non deludermi Tu sei dei grandi Chicago Bulls Dei grandi Chicago Bulls Vai Vai Mamma mia L'ho fatto quasi Cadere a terra Vai E questa Non la prendi Lebron Questa non la prendi James Prima Lebron E poi James Eh Si che blocco Corri a prendere il pallone Mi sto svegliando Un po' Forse L'ho detto anche prima E poi ho fatto schifo Ecco Di nuovo Appunto Eh Mannaggia 12 a 6 Mi ha doppiato Vai Rose Vai Rose Vai E vai Mannaggia Perché Ragazzi Iscrivetemi Nei commenti Se volete Altri gameplay Di NBA 2K14 Non so La modalità La mia squadra La modalità Carriera Non so Volete vedere Le squadre italiane Ce ne sono solo due Però Fatemi sapere Perché io non so Questa qui è andata Molto bene Fortunatamente Quindi Sono felice Che vi sia piaciuta Grande Stavolta L'ho spiazzato Sono felice Che vi sia piaciuto Ho ricevuto Tanti commenti Di tante sfide Piano 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 Le facciamo Le facciamo Tutte Non vi preoccupate Però Mi dovete dare Il tempo Non posso Caricare Guarda Solo video Di NBA Cioè Il canale Dei Amendola Brothers Io sono Jonathan Ma c'è anche Salvatore Che fa i gameplay E farà Altri giochi Quindi non posso Caricare solo Tutti NBA Grande Questa è stata Bellissima Mi piacciono troppo Le schiacciate Di Derek Rose Le preferisco A quelle Di Lebron James Anche se Quelle di Lebron James A volte Sono più Potenti Nel senso Come potenza Sembrano più potenti Perché lui È più un massiccio Però Derek Rose Cioè Dribbla In mezzo Agli avversari Come una Scheggia Proprio Manci E vai Cioè Quando In certe partite Fa proprio Paura Derek Rose Cioè Rose Io lo chiamo Sempre per nome E cognome Cioè Lui parte da qui Tipo Ci sono tre Avversari Passa in mezzo E schiaccia Come non mai Come nessuno Sa fare Mannaggia Però Sono a cinque Punti di distanza Ho recuperato Un po' piano piano Mentre parlavo Meglio se parlo Allora Riesco a giocare meglio Grande No E vai Ci è andata lo stesso Niente Quello parte subito Subito Io lo faccio Passare Proprio Normale Mannaggia Devo Devo migliorare A giocare In difesa Devo giocarlo Un po' di più Nella fase difensiva Grande In attacco In attacco Diciamo Non me la cavo male Ma in difesa Faccio un po' schifo Tipo adesso Avete visto Mannaggia Anche se Pure gli attributi Di Derek Rose Non eccelgono Sulla difesa Però Vabbè Vai Riesco a scartarlo Chi lo sa Chi lo sa Mi farà passare Vai Per di lato Un paio di finte Niente Niente E' grande Così In sottomano 18 A 14 Siamo quasi Alla fine Si arriva A 21 Ragazzi Mannaggia Guardali Che mi ha Combinato Mamma mia Scusate ragazzi Se si sentiva Un rumore In sottofondo Non so se si sentiva Però un cellulare Non Pensateci Vai Rose Vai Non voglio provare A fare Tiri da 3 Con Rose Vai E vai 19 A 15 Sempre a 4 punti Di differenza Lui 2 punti Ed ho perso Quindi Mi sa che finirà così Ma non mi arrendo Non mi arrendo Ce la posso fare Vai Rose Non arrenderti Tu che non ti arrendi mai Non arrenderti Proprio adesso No Riprendila subito Che ho sbagliato Gli ho dato la vittoria Proprio No Mannaggia Io ho dato proprio La vittoria Vai E vai E fammi passare Vai Rose Ce le hai le caratteristiche Per scartarlo È grande Grande Rose Se fa appunto Ho perso Ragazzi Mannaggia Lebron Non passi Non passi E questa Te l'ho stoppata Proprio benissimo Benissimo Però la palla È di nuovo Tuo Mannaggia No Ha vinto Ragazzi E questa Era un'altra sfida Derek Rose Dei Chicago Bulls Contro Debron James Dei Miami Heat Spero che la sfida Vi sia piaciuta Scrivetemi sempre Nei commenti Le sfide Che volete vedere Qualsiasi giocatore Del passato E del presente Anche due presenti Due come adesso O due del passato Quindi iscrivetemelo Spero che il video Vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mettetemi un bel like Se non vi è piaciuto Madonna Grazie ragazzi Alla prossima Ciao a io